La riserva di Ponte Buriano e la Penna al centro dell'incontro che si terrà giovedì 20 agosto alle 21 al Parco della Gioconda di Ponte Buriano, nel corso del quale si parlerà di prospettive turistiche ed occupazionali del territorio. Si tratta infatti di un evento organizzato dall'Associazione per la Tutele e la Valorizzazione delle Risorse Storico-Ambientali dell'Arno, rivolto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della riserva naturale, realtà caratterizzata da un paesaggio unico a vocazione turistica ma anche da altre realtà agricole di pregio. Punta il diamante del territorio resta Ponte Buriano, il ponte romanico che incantò anche Leonardo da Vinci che lo scelse come sfondo della celebre Gioconda. Occorrerà, fanno sapere dall'Associazione, procedere speditamente all'attuazione della Carta di Valorizzazione del Territorio dell'Ambito di Arezzo per un turismo sostenibile proposta dalla Fondazione Arezzo in Tour e fatta propria dal lato turistico, tra i comuni di Arezzo, Castiglionfibocchi e Capolona per promuovere una rete di percorsi tematici multifunzionali dei cammini storici-culturali, delle ciclopiste, delle ipovie, delle vie blu e dei percorsi trekking presenti, creando al contempo un prodotto legato alla fruizione del fiume Arno e della riserva di Ponte Buriano-La Penna a scopo turistico, ambientale e ricreativo, ed infine promozione della zona partendo dal centro visite della riserva di Ponte Buriano-La Penna e del Museo Leonardiano. L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza e che prevede la partecipazione di tutti i candidati alle prossime elezioni comunali e regionali, vuol fare il punto proprio sulle proposte e sugli impegni politici per lo sviluppo del territorio.